Con la campagna in zona gialla e la possibilità di consumare all'aperto in bar e ristoranti riesplode la voglia di normalità nei cittadini. Sono felicissimo, sono contentissimo di essere qui e niente, ho bisogno semplicemente di mangiare un cornetto adesso e rilassarmi. Riappropriarsi di quei piccoli gesti che facevamo prima e che per tanto tempo ci sono stati proibiti. Quello che noi vorremmo un po' capire è come risolvere questa situazione una volta e per sempre. Non servono assaggini, serve ripartire ma alla grande. Con abitudini che dovrebbero essere sempre riprese, ricordarci che anche queste piccole cose sono importanti anche per un aspetto sociale. Noi siamo stati il settore che sicuramente è stato svantaggiato di più, quindi adesso siamo vogliosi di riniziare al meglio e di riniziare soprattutto il rapporto con la nostra clientela. Intanto gli esercenti, felici di poter riaprire al pubblico, lamentano però difficoltà legate alla possibilità di lavorare solo all'esterno dei locali e al coprifuoco alle 22. Perché le persone comunque hanno quell'urgenza di dover tornare a casa. Noi vorremmo ripartire normalmente senza coprifuoco e farci un po' lavorare questi quattro mesi perché veramente siamo allo stremo, non ce la facciamo più. Con il coprifuoco comunque siamo limitati, anche le persone mentalmente non sono liberi e quindi non sanno nemmeno loro, forse nemmeno noi parlo di categoria. Se fare accomodare le persone e farle andare per le 10 oppure farle mangiare e poi, non lo so, come dice De Luca, far mostrare lo scontrino a qualcuno.